Per la prima volta EUTESAT è presente in questa fiera perché EUTESAT ha firmato un protocollo d'intesa con il Ministero della Pubblica Istituzione per la digitalizzazione delle scuole che sono in condizioni di digital divide. Siamo qui con questo stand insieme agli amici di Cisco perché abbiamo studiato insieme una soluzione chiave in mano sia per il cablaggio satellitare delle scuole sia per la parte tecnologica interna. Questa soluzione è piaciuta tantissimo al Ministero e quindi ha deciso il Ministero di inserirla tra le opzioni che le scuole potranno cogliere per superare questo momento difficile per loro di cambiamento anche a livello tecnologico e adeguamento anche del corpo docente all'insegnamento. EUTESAT è a servizio del Paese perché il satellite è un elemento di integrazione importantissima non soltanto come molti pensano per la televisione ma anche per la connettività che la connettività praticamente internet è il motore del futuro e internet è un elemento di democrazia, di sviluppo è assolutamente necessario che tutti abbiano la possibilità di accedere a internet da qualsiasi parte essi risiedano e quindi il satellite è l'unico elemento di integrazione per portare questa opportunità a tutte le persone, aziende, privati e soprattutto nelle scuole che riguardano e che presentano il nostro futuro come nazione. Grazie.